Volete glutei più sodi, cosce più snelle, braccia più magre? Che ne dite di pettorali tonici, una schiena forte, addominali scolpiti? Beh, ora potete! Diventate più sodi, magri e scolpiti più rapidamente con V-Tone! L'ultimissima invenzione del fitness! V-Tone è il modo più veloce e facile di ottenere gambe, cosce perfette e scolpite, rafforzare il petto e la schiena, rassodare le braccia, tonificare i glutei e appiattire l'addome. Il segreto è la molla di resistenza bilanciata di V-Tone, sviluppata per darvi risultati veloci in modo comodo, allenando i principali muscoli con la giusta resistenza per entrare in forma più rapidamente. Un carico minimo non è efficace, uno eccessivo può risultare doloroso. V-Tone è l'allenamento perfetto a basso impatto per tutto il corpo, non importa l'età o il livello di fitness. Lo schermo digitale di V-Tone è il modo intelligente di allenarsi, dato che monitora come un personal trainer il tempo, le ripetizioni e le calorie bruciate, mantenendovi in pista e motivati. È come avere un personal trainer con te, usatelo sempre e ovunque, in soli 10 minuti al giorno potete ottenere il corpo dei vostri sogni. Dite addio ai macchinari ingombranti e noiosi allenamenti, ora tonificherete, rassoderete e rafforzerete il corpo nel comfort di casa vostra. Entrate in forma con il vostro V-Tone! Chiamate ora e riceverete anche i consigli per la dieta V-Tone, facile da seguire e il manuale d'uso illustrato che vi aiuterà passo dopo passo a scolpire il vostro corpo in tempi record. Sempre incluso riceverete lo schermo personal trainer di V-Tone, il modo intelligente per allenarsi e mantenersi in pista e motivati. Dunque a questo prezzo lancio vi invieremo V-Tone, la dieta testata, facile da seguire, il manuale d'uso e lo schermo personal trainer. Questa incredibile offerta televisiva non sarà disponibile nei negozi, quindi chiamate subito! Stanche della ciccia, del grasso e della cellulite? Stufe di allenamenti costosi, scomodi e dolorosi? Vi presentiamo V-Tone, l'ultima frontiera del fitness. Finalmente abbiamo un dispositivo efficace e provato che potrete usare nel comfort di casa vostra. V-Tone è un allenamento completo da fare a casa e funziona efficacemente su addome, glutei, braccia, gambe, petto, schiena e molto ancora. Il segreto è una speciale molla di resistenza bilanciata sviluppata per dare risultati veloci in modo comodo, allenando i principali muscoli con la giusta resistenza per entrare in forma rapidamente. Un carico minimo non è efficace, uno eccessivo può risultare doloroso. V-Tone è l'allenamento perfetto a basso impatto per tutto il corpo, non importa l'età o il livello di fitness. È l'allenamento da casa più versatile, che aiuta a sollecitare le stesse aree del corpo con diversi esercizi, applicando la tecnica della confusione muscolare, garanzia di grandi risultati. Ciò che mi piace di V-Tone è che confonde i muscoli, senti sempre come una nuova sfida. I muscoli non sanno mai che succederà. Dopo aver finito con le zone su cui mi sono concentrato, sento bruciare. E questo mi piace molto, perché quando i muscoli bruciano, so di aver fatto un ottimo allenamento. E vuol dire che otterrò i risultati attesi. So che se sento l'allenamento, noterò i risultati. La resistenza intelligente di V-Tone vi dà la giusta tensione sia che siate principianti o esperti. È un allenamento dinamico per tutto il corpo. Potete allenare il petto da una varietà di angolazioni e coprire l'ampia zona muscolare, riducendo taglie, dando un miglior sostegno, volume e definizione. Ed ecco spuntare un addome invidiabile come non mai, sdraiati, seduti o in piedi. E che dire di avere gambe perfette, sdraiate, sedute o in piedi? Con V-Tone le possibilità sono infinite! Hai praticamente una palestra completa nel palmo delle mani. Con un prodotto che è più piccolo di un cuscino, si può sollecitare ogni punto, mentre quando si va in palestra si devono usare diversi macchinari per allenare i vari muscoli. Questo prodotto fa tutto in uno. Allenandovi con V-Tone, potete ridurre la comparsa della cellulite, tonificare il grasso sotto le braccia e intorno al girovita e perdere centimetri e taglie. V-Tone funziona efficacemente sollecitando le zone dove avete bisogno con la sua varietà di esercizi per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile. Un addome piatto e scolpito, gambe sode lisce, braccia magre e toniche, glutei definiti all'insù e un petto più forte e muscoloso. Ma non finisce qui! Lo schermo personal trainer di V-Tone è il modo intelligente di allenarsi, dato che monitora come un personal trainer il tempo, il numero di ripetizioni e le calorie bruciate, mantenendovi in pista e motivati. La cosa migliore è che il carico non sarà mai né eccessivo né ridotto, saprete sempre con esattezza quanto lavoro avrete bisogno di fare. E c'è un suono beep alla fine di ogni ripetizione, in questo modo saprete quando ne avete completata una correttamente. È come avere un personal trainer a casa! Con V-Tone potete fare gli stessi esercizi dei grandi attrezzi in palestra, ma nel comfort e nella comodità di casa vostra. Ridurrete la comparsa della cellulite, la ciccia sotto le braccia e intorno al girovita, e molti centimetri e taglie rapidamente. Chiamate ora e riceverete anche i consigli per la dieta V-Tone, facile da seguire, e il manuale d'uso illustrato che vi aiuterà passo dopo passo a scolpire il vostro corpo in tempi record. Sempre incluso riceverete lo schermo personal trainer di V-Tone, il modo intelligente per allenarsi e mantenersi in pista e motivati. Chiamate subito! Ciao, sono Cody Patrick, dalla palestra Fit, Alt & Performance nella soleggiata South Beach. Oggi sono qui con Emi e vi mostreremo come usare i V-Tone per sostituire questi attrezzi ingombranti della palestra nel comfort di casa vostra. Pronta a provarlo, Emi? Pronta! Ok, cominciamo! Il primo esercizio è il chest fly. È tra i preferiti dagli uomini per incrementare la massa dei pettorali. È apprezzato però anche dalle donne perché permette di avere un maggior sostegno. Molto bene. Emi ci mostra cosa fate quando siete in palestra. Sta spingendo in avanti, sollecitando in questo modo la zona del petto. Ora invece vi mostriamo come fare lo stesso esercizio con il vostro V-Tone. Emi inizia a congiungere le due estremità finché non senti il bip. Ecco, così. Ai principianti consiglio di provare a portare V-Tone un po' più vicino al petto. Ciò riduce la leva e lo rende un po' più semplice. È facile. Esatto, proprio così. L'esercizio varia e sollecita un po' più le spalle. Cambia il modo in cui lavora il petto. La cosa bella di questo attrezzo è che sarete in grado di usarlo per allenare diversi muscoli. Ok, continua e portalo un po' più in basso. Questa variante già coinvolge altre zone. Così. Bisogna confondere un po' i muscoli per fare dei veri progressi. Lo stesso movimento ma un esercizio diverso per allenare sempre nuovi gruppi muscolari. Guardate come si flettono le spalle mentre il petto continua a lavorare. E portiamolo più in alto. Ogni bip che sentite indica il completamento della ripetizione. Man mano che si va avanti e ci si stanca, si perde il conto delle ripetizioni. Ma questo sistema lo farà per voi. Non solo monitora le vostre ripetizioni, ma anche il tempo e il totale delle calorie bruciate. Così non vi allenerete né troppo né poco, ma solo il giusto. È come avere un personal trainer che segue l'allenamento al vostro fianco. Allora, come ti senti? Sento bruciare i muscoli. Ora passiamo agli addominali. Portalo intorno al fianco e posizionalo sopra, tenendo il gomito leggermente piegato. E faremo un crunch laterale. Ok. È così che alleniamo la parte laterale degli addominali. Potete vedere come sta flettendo lateralmente, come sta allenando i muscoli dei fianchi con questo esercizio. Ora lo mettiamo qui sulla coscia. Flettete la parte centrale degli addominali, congiungete le due estremità e sentite il bip. Così. Vi concentrate solo sui muscoli che state allenando. Ora stiamo coinvolgendo gli addominali, lavorando su tutta questa zona. È incredibile la versatilità di questo attrezzo. Siamo già passati da un esercizio a un altro e a un altro ancora davvero molto velocemente. In una normale palestra avreste dovuto passare da un macchinario a un altro, ma ora non più. È ideale se vi allenate a casa o se siete in viaggio. È davvero estremamente versatile. Ora che abbiamo finito con i polpacci, andiamo avanti con quella che è la parte più popolare del corpo, le gambe. E ovviamente i glutei. Bene, lo portiamo in alto. Ancora posizionato fra le gambe, nella parte interna delle cosce, in questo modo. Ora voglio che fai un esercizio di squat. E quando scendi in basso, congiungi nuovamente le due estremità fino a sentire il bip. Ok, va bene così. Abbiamo visto fare a Amy un allenamento totale del corpo. Ha allenato la parte alta, il petto, le braccia. È passata la zona centrale, l'interno coscia. Ha fatto esercizi per i polpacci. Per tutto. È questo l'aspetto grandioso di questo attrezzo. Non importa che voi siate a casa o in viaggio. Non importa che cosa stiate facendo. Sbizzarritevi, non c'è limite all'immaginazione. Più creativi siete, più esercizi sarete in grado di fare. Su, mettetevi in forma. V-Tone, l'ultimissima invenzione del fitness. V-Tone è il modo più veloce e facile di ottenere gambe e cosce perfette e scolpite, rafforzare il petto e la schiena, rassodare le braccia, tonificare i glutei e appiattire l'addome. Il segreto è la molla di resistenza bilanciata di V-Tone, sviluppata per darvi risultati veloci in modo comodo, allenando i principali muscoli con la giusta resistenza per entrare in forma più rapidamente. Lo schermo digitale di V-Tone è il modo intelligente di allenarsi, dato che monitora come un personal trainer il tempo, le ripetizioni e le calorie bruciate, mantenendovi in pista e motivati. È come avere un personal trainer con te. Usatelo sempre e ovunque. In soli 10 minuti al giorno potete ottenere il corpo dei vostri sogni. Chiamate ora e riceverete anche i consigli per la dieta V-Tone, facile da seguire e il manuale d'uso illustrato che vi aiuterà passo dopo passo a scolpire il vostro corpo in tempi record. Sempre incluso riceverete lo schermo personal trainer di V-Tone, il modo intelligente per allenarsi e mantenersi in pista e motivati. Siete stufe di trascorrere ore e ore in palestra per cercare di migliorare il vostro corpo? Avete paura di provare prodotti fasulli per perdere peso o diete rigide? Dimenticate rischi e sacrifici! V-Tone vi aiuterà a sbarazzarvi del grasso indesiderato in modo semplice, veloce ed efficace. Grazie alla sua speciale resistenza regolabile e alla sua versatilità, avrete un addome piatto e scolpito, delle gambe più magre, braccia toniche e glutei sodi, tutto nel comfort di casa vostra. È un allenamento dinamico per tutto il corpo. Potete allenare il petto da una varietà di angolazioni e coprire l'ampia zona muscolare, riducendo taglie, dando un miglior sostegno, volume e definizione. Ed ecco spuntare un addome invidiabile come non mai, sdraiati, seduti o in piedi. Con V-Tone le possibilità sono infinite! Con V-Tone non ti annoi mai, puoi cambiare e passare a un altro esercizio facilmente, puoi mettere l'attrezzo davanti a te o sopra o sui fianchi. Offre più opzioni di utilizzo di ogni altro attrezzo. Hai praticamente una palestra completa nel palmo delle mani. Se volete sbarazzarvi del grasso in una zona specifica o state cercando di ottenere un cambiamento radicale del corpo, basta usare V-Tone per soli 10 minuti al giorno e rimarrete stupiti dai risultati! V-Tone mi ha aiutato a tonificare il corpo e ho di nuovo fiducia in me stessa. Mi ha aiutato davvero ad avere gli addominali che ho sempre voluto. Il grasso è sparito, le maniglie dell'amore sono andate via, grazie a V-Tone. Usando V-Tone ho tonificato le braccia, ora ho uno stomaco piatto e glutei sodi. V-Tone è efficace e sollecita le zone critiche con la sua varietà di esercizi, per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile. Un addome piatto e scolpito, gambe sode e atletiche, braccia magre e toniche, glutei definiti all'insù e un petto più forte e muscoloso. Ma non finisce qui! Con lo schermo Personal Trainer di V-Tone vi allenerete in modo intelligente contando come un Personal Trainer il tempo, il numero di ripetizioni e le calorie bruciate mantenendovi in pista e motivati. La cosa migliore è che il carico non sarà mai né eccessivo né ridotto. Saprete sempre con esattezza quanto lavoro dovete fare. L'attrezzo controlla l'allenamento con un BIP e questo sistema ti permette di sapere quando hai fatto una ripetizione completa. Poi appare il numero delle ripetizioni svolte, così mi rendo conto di quanto devo usarlo per una data parte del corpo e quante calorie devo bruciare. È come avere un Personal Trainer sempre con te! Ora potete ridurre la comparsa della cellulite, tonificare la ciccia sotto le braccia e intorno al giro vita e ridurre centimetri e taglie con V-Tone. V-Tone è l'allenamento da casa più versatile che aiuta a sollecitare le stesse aree del corpo con diversi esercizi, mettendo alla prova i muscoli con la cosiddetta confusione muscolare, offrendo straordinari risultati. Il segreto è la speciale molla di resistenza bilanciata di V-Tone, sviluppata per darvi risultati veloci in modo comodo, allenando i principali muscoli con la giusta resistenza per entrare in forma rapidamente. Un carico minimo non è efficace, uno eccessivo può risultare doloroso. V-Tone è l'allenamento perfetto a basso impatto per tutto il corpo, non importa l'età o il vostro livello di fitness. Smettete di sognare gambe perfette e toniche, braccia magre e sode, glutei definiti all'insù e un petto più forte e muscoloso. Ora potete avere il corpo dei vostri sogni con V-Tone! Volete glutei più sodi, cosce più snelle, braccia più magre? Che ne dite di pettorali tonici, una schiena forte, addominali scolpiti? Beh, ora potete! Diventate più sodi, magri e scolpiti più rapidamente con V-Tone, l'ultimissima invenzione del fitness. V-Tone è il modo più veloce e facile di ottenere gambe e cosce perfette e scolpite, rafforzare il petto e la schiena, rassodare le braccia, tonificare i glutei e appiattire l'addome. Il segreto è la molla di resistenza bilanciata di V-Tone, sviluppata per darvi risultati veloci in modo comodo, allenando i principali muscoli con la giusta resistenza per entrare in forma più rapidamente. Un carico minimo non è efficace, uno eccessivo può risultare doloroso. V-Tone è l'allenamento perfetto a basso impatto per tutto il corpo, non importa l'età o il livello di fitness. Lo schermo digitale di V-Tone è il modo intelligente di allenarsi, dato che monitora come un personal trainer il tempo, le ripetizioni e le calorie bruciate, mantenendovi in pista e motivati. È come avere un personal trainer con te. Usatelo sempre e ovunque. In soli 10 minuti al giorno potete ottenere il corpo dei vostri sogni. Dite addio ai macchinari ingombranti e noiosi allenamenti. Ora tonificherete, rassoderete e rafforzerete il corpo nel comfort di casa vostra. Entrate in forma con il vostro V-Tone. Chiamate ora e riceverete anche i consigli per la dieta V-Tone, facile da seguire, e il manuale d'uso illustrato che vi aiuterà passo dopo passo a scolpire il vostro corpo in tempi record. Sempre incluso riceverete lo schermo personal trainer di V-Tone. Il modo intelligente per allenarsi e mantenersi in pista e motivati. Dunque a questo prezzo lancio vi invieremo V-Tone, la dieta testata, facile da seguire, il manuale d'uso e lo schermo personal trainer. Questa incredibile offerta televisiva non sarà disponibile nei negozi, quindi chiamate subito!